Benvenuti in questo video e adesso vi racconto chi è il cliente target che compra a Vernazza. Dalle statistiche Vernazza è la più fotografata, non lo dico io, lo dicono le statistiche delle 5 terre e soprattutto è tornata e ha avuto risalto con l'ultimo cartone animato che è stato realizzato, Luca che è il ragazzo che è stato ambientato proprio alle 5 terre, quindi i bambini, i giovani, ma più grande, l'ho guardato, è bellissimo, si è rimedesimato proprio nel visitare Vernazza perché la gran parte delle scene sono state ambientate lì. La piazza centrale è molto visitata, anche quella a Vernazza si può raggiungere col treno e con i battelli, non vi consiglio la macchina perché i parcheggi che ci sono non sono molto numerosi ma sono a circa un chilometro dal borgo, quindi poi dovete prendere la navetta e da lì c'è il sentiare azzurro che parte, che vi collega sia in direzione Corniglia che verso Monte Rosso, è veramente grazioso tutto il borgo e anche lì troviamo tutta una serie di locali e di attività da poter fare, noleggio delle barche, escursioni, trekking e mountain bike, quindi queste sono un po' le caratteristiche fondamentali di Vernazza, è una delle più fotografate e anche lì salendo sui sentieri trovate dei localini molto graziosi dove fermarvi a fare delle degustazioni di prodotti tipici, da lì si può prendere il treno oppure il sentiero e ci spostiamo verso Monte Rosso che è l'oggetto del prossimo video.